Bella ragazzi, siamo arrivati a Brugherio e oggi corrono le giovanili e i master e dopo andiamo a provare il percorso, non vedo l'ora perché Brugherio è sempre stata una delle miei gare preferite Vai Phil, vola! E vai! E questa è la seconda! Buongiorno, ieri siamo andati a provare il percorso, il percorso è sempre molto bello qua a gareggiare, davvero non vedo l'ora di gareggiare perché sento di poter fare davvero bene su un percorso del genere, stanotte ha piovuto un pochino quindi oggi potrebbe darsi che ci sia del fanghiglio però oggi dovrebbe tenere e probabilmente i junior e le donne ci asciugheranno un pochino il percorso, vediamo un po' come sarà Grazie! 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 Oggi è stata una delle mie peggiori giornate, i primi giri erano lì che cercavo di rientrare perché sono partito indietro e non ho neanche avuto una delle mie solite partenze. mentre cerchiamo di rientrare probabilmente ho esagerato, ho esagerato e mi sono finito alla fine ero comunque tredicesimo, l'ultimo giro ho anche bucato davanti quindi mi sono fatto mezzo giro a piedi e poi sono riuscito a finirla almeno ventunesimo, decimo under però non importa il risultato sono veramente stanco e adesso si pensa solo a riposare per domani It's race day, oggi gara di casa, cosa ne pensa Stucco? Piove, io sono felice Oggi è una vera giornata, una giornata veramente brutta come meteo Adesso non sta piovendo tantissimo però dopo sono andati 7 mm quando corriamo noi quindi vediamo cosa combina il tempo e il giro non dovrebbe fare tanto fango però potrebbe rimanere bello scivoloso Io sto bene, mi sento quasi meglio oggi di ieri Io sto bene, mi sento quasi E che dire, sto registrando questo video a Nalles perché è stata una settimana veramente complicata tra la scuola e tutto quindi non sono riuscito a farlo prima e non credo che farò uscire un vlog perché sono da sole senza la squadra perché sono tutti europei quindi secondo me non ha senso far uscire un vlog Comunque come avete potuto vedere la gara di Cremona è stata veramente veramente tosta il meteo non è stato clemente e durante la gara sono riuscito a rimanere lì C'erano i 4 davanti che hanno fatto il buco subito e non c'è stata più gara e poi dietro eravamo un gruppetto all'inizio di tante persone poi siamo scesi a 5-6 unità e sono arrivato con quel gruppetto dietro fino a preso i primi punti UCI che mi permettono di saltare tutta la top class e va bene così le condizioni meteo hanno influenzato il numero di riprese che ci sono state durante la gara che è nullo, ho dovuto prendere le riprese ufficiali sperando che non mi facciano storie col copyright vediamo poi a Lutterbach giovedì prossimo vado a fare una gara in Francia infrasettimanale